voi ditemi se il mio socio è normale che indica la sua banca credo si stanno facendo le foto con il mio socio si fanno i set stiamo andando a bere la bomba Piero! che è la bomba? la bomba? dove è la bomba? la bomba? grande Piero, grazie grazie alla vostra saluti ragazzi, io bevo la sua ragazzi, ci stiamo aspettando ancora gli sposi buonissimo Piero, complimenti la bomba è la bomba auguri ragazzi era Piero la bomba tutta giusta ma come viva la bomba? ma come viva la bomba? grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti